Io vorrei parlare della discarica, non dell'italiano che conoscete o non conoscete. Una puntata dai toni infuocati e quella che Spazio Città ha dedicato oggi al tema della ipotesi di realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani nel sito denominato ex fratelli Acquaviva che ha sempre accolto inerti. Grazie a Di Bari per il Movimento 5 Stelle che ha sollevato la questione, il consigliere regionale Sabino Zinni in qualità di esponente della maggioranza del governo regionale, il sindaco Nicola Giorgino in qualità di presidente della provincia BAT si sono confrontati esibendo i carteggi che secondo i pentastellati consentirebbero la realizzazione in quel sito di una discarica di RSU. Ipotesi completamente inesistente secondo il presidente della BAT Nicola Giorgino che ha accusato la Di Bari di utilizzare il tema per tornaconto elettorale. Anche il notaio Zinni ha escluso, secondo la sua lettura delle carte, che vi sia una realistica ipotesi di trasformazione della discarica. Come esponente della maggioranza in regione ha comunque assunto nella nostra trasmissione l'impegno a fugare ogni dubbio a far cancellare qualunque riferimento possa essere utilizzato in futuro per la realizzazione della discarica. Ed ha annunciato di avere raccolto anche l'adesione del presidente Emiliano su questo punto. Ma sono in molti ad affermare che questa discarica non sia realizzabile né da un punto di vista logistico, questione che approfondiremo nei prossimi giorni con l'aiuto di tecnici specializzati del settore, né dal punto di vista del carteggio che la stessa regione ha tra le mani. Sono gli atti a dire che l'assessore regionale all'ambiente Estea, da cui pure abbiamo raccolto una dichiarazione di necessità di trovare comunque un luogo di conferimento dei rifiuti solidi urbani, non potrà realizzare una discarica. Sicuramente non in quel sito, conferma l'assessore all'ambiente del comune di Andria, Luigi del Giudice. È possibile, secondo lei, la realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani sul sito degli ex fratelli Equavio? Allo stato attuale, secondo me, è assolutamente impossibile, perché basta riferirsi semplicemente a quelli che sono gli atti da cui la delibera tanto contestata di giunta regionale parte. Il piano di gestione dei rifiuti della Regione Puglia del 2013, aggiornato nel 2018. Le schede specifiche che si riferiscono a quel sito, a quella discarica, parlano di discarica di soccorso in continuità con l'esercizio di un impianto di biostabilizzazione che avrebbe dovuto costruire l'azienda titolare. Poiché l'azienda non si trova nelle possibilità tecniche e materiali di creare l'impianto stesso, la discarica di soccorso è tamquanonesset.